Ciao a tutti, troverò il fidanzato entro l'estate. Chi fosse interessata ad avere una risposta a questa domanda, segua il video. Intanto mescoliamo le carte e iscriviti al canale. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale. Felicità e benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, mescolate le carte. Tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. La mia carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora, concentrati sull'estate, sul tuo futuro, rilassati. Questo appare anche nel video per farlo ripartire. Dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Perché hai scelto la carta 1? Troverai, conoscerai persone che però non saranno buone per te. Anzi, potrebbero anche lavorare un po' nel torbido. Quindi, per quest'estate è meglio glissare e sperare, diciamo, più avanti. Nell'autunno. E incontrai qualcuno, ma non avrà un buon giudizio su di te. Quindi, fidanzamenti veri e propri, no. Che hai scelto la carta 3? Periodo di solitudine, niente. L'estate, niente da fare. Che hai scelto la carta 4? E anche qua incontrerai persone, ma molto libertine. Quindi, proprio fidanzamento vero e proprio, niente. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco. Iscriviti al canale e seguimi sul mio nuovo canale Felicità e Benessere. Di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.